Se poteste zoomare, sto ci asciudando un po', si fa caldissi I'm already sweating a pot But why do we choose for this? Well, actually... Let's break the strings as much as possible Vai! Ma ti hai detto che sia di un noise gate? Credo che un po' di noise gate sia da... Ok, adesso che mi fai un cappuccio Ho sbagliato Oh, aspetta Ah, perché è là? Ok, ci sono No, è il viola No, è il viola, però è del male Il viola è del male, è proprio mamma mia È il male Sei uno di quelli che preferisce fare le cose brutte prima Sì, esatto Vi addenti che lo... Come volete No, cos'è che stava dicendo che il tuo più grande... A lui piace scaldarsi con le c***e Sì, sai You're the greatest free bread with... With... Così io poi devo fare i sottotitoli Sì All'esame poi non c'eri tu, no? Sì Io sono entrata in aula con la mia ibanez nera Con Marras davanti Fa che chitarra di m***a Suono Ovviamente mi chiedono cose che tu avevi detto di non preparare Ok, grande E adesso col set In metal Questa roba qua Sì E ho preso 8 in jazz Mi sento... Ho preso 8 in jazz Che non sono capace Credo che quello lì fosse un po' La filosofia dietro l'accademia, no? Cioè Prepararti quello che sarà la vita fuori da lì Quindi una m***a E quando ti hai fatto quell'esame Di secondo me io e te ero Perché adesso dietro l'utelicano c'è un'altra persona Noi avevamo appena partiti per il primo contratto Ho fatto lezioni e varie vie Pessimo Mi sono presentato il giorno dell'esame Scusami In diretta nazionale Che era la tua relazione? In realtà Ho stato insegnato la parte pelle del mondo del giudetto A queste due giorni For due giorni Ho stato venuto a un seminario Che ho fatto in un'academia Qui in Milan Che è chiamato La Rom Guitare Academy E io ho stato insegnato A un'altra A un'altra A un'altra A un'altra A un'altra A un'altra Ma tutti Che la cosa che preferisca la più È la ritmo Che ho fatto la mia Quindi per i due giorni Ho potuto prendere la mia Quindi questo ragazzo Era molto importante Per il fruzencrown Quindi Ho fatto Ho fatto Questo è il motivo Per cui è qui Ci sono le persone Alessandro Tuvo O è questa la sua pronuncia? Alessandro Tuvo Alessandro Tuvo Alessandro Tuvo Alessandro Tuvo Quando siamo venuti Quando si chiedono A un nome Mi chiedono I'm Alex Mi chiedono I'm Alex Nice to meti Joseon Joseon Nice to meeti Is a great guitar player Big guitar player I wouldve Big guitar player A great guitar player Probably the best live guitar player I've ever seen Playing live And also in the studio Wow And most importantly Dandario A product specialist For Italy And so As they are Welcoming here In their video Sono molto felice di benvenire la famiglia di Dadaio Allora, parliamo di strumenti e arriviamo al punto Io conosco che hai chiesto di strumenti di strumenti per questo avventurato e dei giudici che hai in Giappone, certo? Hai già fatto una grande strumenti in Europa e che hai chiesto in Giappone Sì, abbiamo già usato i vostri strumenti, Dadaio, Abbiamo già usato i strumenti durante la nostra strumenti europea, insieme con la nostra strumenti Sto seguendo te in social media, come una serie di Netflix, sono molto felice Quel pallino lampeggia, è giusto? Meraviglioso, hai iniziato a lampeggiare, scusate Ha due lampeggiare, se il lampeggio è buono Grazie mille Ok, cool, quindi quali strumenti hai chiesto per? E per cui, specialmente? E vediamo se c'è una teoria dietro, o se hai chiesto solo un po' di strumenti Ok, quindi abbiamo un problema qui Prima di tutto, questa è la mia prima volta con una gitarra di 7 strumenti Perché quando abbiamo fatto questo Jackson deal, In realtà, siamo chiesti di chiedere le gitarre che abbiamo bisogno E, da quando ho raffreddato i suoi suoi suoi, Ho bisogno di avere una 7 strumenti di guitarra E anche per poter usare la live E per evitare di usare un baritone Plus una regolata Quindi per questo ho chiesto per una 7 strumenti... E, come si chiama? E questo è il goji, il string set E questo è il goji Goji Sì, goji Ho bisogno di chiedere la 954 AXL Che è la più grande standard che abbiamo in nostro catalogue Ma perché ho chiesto per questo? Beh, la reale ragione Che avremo a raffreddato dal video, se non sonne bene è che non ho s**t di strumenti sempre ho spesso che avevo avuto per me è importante per essere molto piccolo perché ho piccoli le mani diversamente da quello che c'era non come nella nella la cosa che è che si usano più grandi ma ho molto piccolo e sono molto piccolo quindi ho sempre usato il 9 Ok, ora è la tua scuola. E questo è un buon benchmark, perché se non sapete qualcosa sui stringi, magari siamo rilassati con un buon semplice di guitar player all'around del mondo, perché c'è molta confusione a parlare di stringi. A me, personalmente, un po' anni fa non ero capito di molti benefici, di molti benefici che potrebbero ricevere il proprio set. Il standard string è il best seller worldwide, perché l'XL è il set per 90% di guitar player, è un'iconica set, ma... Hai chiesto questo per una specifica cosa, o c'è qualcosa di più? Sì, la specifica cosa è che mi piace parkour. Ha... Oh ga, oh ga! Sì... Si, si è sentito che erano quelle viola Si vedeva che il suono era un po' viola Ma lo sai una cosa, quando sono le cose ribassate di un tono Il colore sull'elix è viola Proprio, proprio, c'è E quali sono le stringhe che tu hai scelto? Oh, è lo stesso per me Come Federico, perché non so nulla Sì, ma ancora lo sai meglio Hai scelto qualcosa di molto stile Sì, ho scelto questo perché è stile E mi chiedo in sub-stile Ok So, packaging means a lot Yeah I always use the tiny strings Ok, cool Because that's the one you're getting with your first guitar Ok I always use the O9 The XL, ok Always NYXL or Excel? No, 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 I mean the Goji The Goji But lately I discovered that 10 for me is better Because I can do solos Which I hate But I can do them better We all hate the straddle of playing it live But yeah, it's a thing to do So somebody has to do it So, which is the main difference In those two strings? And maybe something that can be also A good knowledge to share to the viewers of this video Because there is a lot of confusion regarding string sets And materials So let's say that the main difference Between the two that you choose Is that those are the regular strings Let's say the best seller And this is a kind of evolution It's a premium product It's almost the same concept behind But the main difference is that We have the NYXL So it's the NY Steel Which is a type of steel that has been created From the entire family And the difference The main difference is that These strings It's a premium product In comparison to this one And it sounds more brilliant Brilliant? Can I say it? It's more clear It has a lot of top end And it's very reactive under the big So even when you play the guitar Without plugging it You can feel that it's brighter And it responds better in terms of tension You can say, what if I do Let's see Kitching Drop I can say it Bettering the browsers Is that through I can use thells I have to say Try Enjoy This way Once Why You can cara I can Get e è quasi unbreakabile come Matteo quindi ci sono molte pressioni che i suoi strumenti quindi si potete vedere in video dove si è andato con una freccia e si è andato a breakare le suoi strumenti e tutti i altri brandi si è andato e questo è un'altra parte che non è andato quindi questo è qualcosa che è andato più lungo quindi si è andato a cambiare le suoi strumenti più le più le suoi strumenti magari c'è qualcosa di più che posso dire ci sono due sette diversi che potresti prendere in considerazione per il futuro che sono i sette XS e i sette XT che sono quasi la stessa come i sette NYXL la differenza principale è che questi due sette e l'ho dimenticato per voi, quindi per il futuro due sette sono... eh, io sto schiacciando sto focus ma non so... non troppo, non troppo! eh no... ok, vai, vieni un po' indietro, un po' indietro no, vettilo un po' più indietro il... indietro rispettativo a te e a te, a me! ah ah! quindi, questi sono i due strumenti che potrei suggerire e perché dovrei suggerire queste strumenti? perché, ovviamente, sei solo una banda live e quindi giochi molto live e questi due strumenti sono molto bene per evitare alcun tipo di problemi di corrosione che potrebbero avere questi strumenti sono praticamente i strumenti che vorrei dire non farò più profondi su queste strumenti ma sono due strumenti molto lunghi l'unica differenza è che l'XT ancora ha la sensazione di strumenti questo strumenti è un'uncaughte strumenti ma il processo che hanno fatto in questo strumenti è che prendono solo le strumenti quindi le strumenti e le strumenti e le strumenti e le strumenti è un'uncaughte quindi la sensazione è un po' diverso perché è più slipperato che è una cosa che molti piacciono e altri piacciono le strumenti l'unica differenza tra questi strumenti e questi strumenti è che i strumenti che sono molto lunghi che è buono che è buono che è buono come me e non voglio cambiare strumenti per te per te non ho l'unica ma hai questa opzione l'XT per 7 strumenti e l'XS per 6 strumenti quindi ci sono sicuro che ci saranno alcuni giorni in alcuni giorni sono veramente meravigliosi e vi mostrerò il pacchetto che hanno messo a noi che è davvero meraviglioso fino a ora mi sembra bellissimo bellissimo questo è stato un video mi piacciono e mi piacciono conoscere le strumenti e le strumenti e le strumenti che puoi implementare sui strumenti in futuro siamo molto felici di invitare in la Dario e vi auguro buona buona tura e tutti i giorni che sono venuti con il loro grazie per aver guardato ma no no grazie e buon e buon ma noi i due conosciano i due e i due anche quando erano 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 i due 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 si un franzo e vogliamo per i due i due i due i due No, non ci sono. Abbiamo i ticchetti di avuto, abbiamo avuto i ticchetti di fare, e poi, a quella specifica notte, la Bataclanca stoffe, quindi non siamo arrivati più. Quindi è un po' di minuti. Un po' di minuti, sì. Wow. Abbiamo conosciuto un po' molto tempo, abbiamo studiato nella scuola che ho studiato, quindi abbiamo tutti studiato nella scuola, e ho una storia molto lunga storia di me e Federico, perché stavamo partendo, stiamo vivendo la stessa metalcore scena, o diciamo... No, proprio. Italia è un po' un po' di minuti, tutti conoscono i altri, e quindi lo so, anche se ti dicevole. Quindi, molto felice di essere venuto da Daniele e da Dario Family, grazie per aver guardato. E, anything else to say? No, 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 no. Sono davvero felice con questo, siamo tenuti a essere il... Come si chiama? Il David Letterman, in our talk show the host bene bello molto bello dai cioè nel senso noi adesso io qui spengo poi faccio il backupone quindi spengo sì dopodiché